poesia presente lab scuola di poesia in ogni sua forma e direzione formazione ricerca incontri casa sono queste le quattro aree di sviluppo concepite da poesia presente lab la prima scuola di poesia in italia a proporre percorsi di poetry therapy scrittura poetica poesia performativa poesia presente lab poesia che fa scuola